ANSA, Venezia, 19-8, si moltiplicano gli incentivi al voto di domenica prossima sull'autonomia a colpi di sconti da parte dei commercianti veneti. La gara allo sconto per vincere l'incognita del quorum è diventata virale. Si va dal bar Pasticceria di Bassano, Vicenza, che alle prime 50 persone che presenteranno la ricevuta domenica mattina sarà offerto cappuccino e briocche, alla profumeria di Tiene, dal negozio di armi da Softair al parrucchiere di Marcon, Venezia, dal negozio di calzature di Cornedo Vicentino, che offre il 10% di riduzione fino al ristorante che regala il dolce a fine pranzo o cena.